...di tempo. Tanto non c'è pericolo che tu perdi un posto. Questa città o un'altra, per te sembra la stessa cosa. Però ti dico che a casa non ci devi tornare più. Così ha deciso il Tribunale dei Fratelli. Ma chi ci vuole tornare più a casa? Allora tanto meglio così. Senti. Facemmelo patte, eh? Viste che tenete tanta solda da gettà sopra quello sacco di merda di Morini. Crede che tenete qualche cosa di più adà vostro fratello, no? 200.000 lira. E me ne vada veramente. Pure se non so d'accordo mi impegni a fartene da altri 100.000. Appena Rocca avrà pigliato i soldi. La seconda rata di un contratto, Jerry, la pagherà soltanto dopo il prossimo combattimento. Va bene, e io aspetto. Eh, noi ce ne andiamo. Viene, Luca. Lui lascialo stare! No! Calma, Ray. Non tenga la tigna, io. Tu l'hai affinito questo dono, Ciro. Ma che crede adesso? Un operaio specializzato dell'Alfa Romeo. Capirai che carriera. Va, vattene a testa alta, cammina, su. Ne fai pietà. Vai via, caro. Hai sentito, Luca? Sì. Ma dite che gli faccio pietà. Su, Luca, vieni! Non c'è YouTube. Fu. 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 Grazie.